Dalla lettera di San Giacomo Apostolo Prendete, o fratelli, a un modello di sopportazione e di pazienza i profeti che parlano del nome del Signore. Ecco, noi chiamiamo beati quelli che hanno sopportato con pazienza. Avete udito parlare della pazienza di Giove e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione. Soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo né per la terra né per qualsiasi altra cosa, ma il vostro sì, sia sì, e il vostro no, no, per non incorrere nella condanna. Chi tra voi è nel dolore, preghi. Chi è nella gioia, salmeggi. Chi è malato, chiami a sé i presbriferi della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con olio nel nome del Signore. E la preghiera, fatta con fede, salverà il malato. Il Signore lo rialzerà e, se ha commesso peccati, gli saranno perdonati. Confessate, perciò, i vostri peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri per essere guariti. Molto vale la preghiera del giusto, fatta con insistenza. Elia era un uomo della nostra stessa natura. Pregò intensamente che non piovesse e non piove sulla terra per tre anni e sei mesi. Poi pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Fratelli miei, se uno di voi si allontana dalla vita e un altro ve lo riconduce, costui sappia che chi riconduce un peccatore dalla sua vita di errore salverà la sua anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati. Siano dato, adorato e ringraziato ogni momento. Salveissimo e divinissimo sacramento. Abbiamo ascoltato appena ora l'ultima parte della lettera di San Giacomo Apostolo, la prima per le lettere cattoliche che accompagnano le nostre ore sante almeno in questo primo squarcio dell'anno liturgico-pastorale. Contiene varie esaltazioni, come era un pochino lo stile di tutte le lettere apostoliche e anche delle lettere di San Paolo che al termine, dopo le ultime versetti, hanno una serie di raccomandazioni varie, le vedremo possibilmente una per una che hanno però ruotano fondamentalmente intorno ai temi della pazienza di cui tra l'altro San Giacomo aveva già ampiamente parlato e su cui siamo stati ampiamente istruiti e della preghiera, è la duplice forma della preghiera di supplica o di intercessione e la preghiera di rote, il salmeggiare, come dice il cugino del Signore. Allora, vi è innanzitutto presentato il modello di Giove, la pazienza, il modello di supportazione e pazienza e i profeti che parlano nel nome del Signore. Abbiamo la meditazione di Giove di scorso, se non mi ricordo male, si chiama proprio La pazienza si volta in cielo e qui riprende, San Giacomo, alcune soltrazioni sull'importanza straordinaria di questa virtù che non è mai abbastanza perché sono sempre nuovi e sempre multiformi di motivi che abbiamo per esercitare questa avvoli virtù dai piccoli ai grandi fastidi, dalle piccole alle grandi prove, dai piccoli ai grandi difetti nostri e di chi ci sta intorno che a volte possono essere veramente sderpanti e sempre uguali, insistenti e possono veramente chiamare a dura prova il nostro spirito di supportazione e di pazienza. Ecco, abbiamo come sempre Giove, è bene leggere il dipendimento di Giove, può, perché ha tempo, è un'ottima lettura anche perché è facilmente comprensibile ed è l'esempio dell'antonomasia della grande pazienza. E la sorta minimale che il Signore riservò a Giove in questa terra è riservata a chi ha esercitato la pazienza in cielo, grandissime, sono le ricompense per chi è paziente. Poi c'è un'esortazione alla veracità. i figli di Dio non giurano, non hanno bisogno di chiamare Dio a testimone della verità di quello che dicono, ecco perché è così importante dire sempre la verità. Ed essere fedeli alla parola data, non c'è bisogno di giurare. Se io dico una cosa, chi mi ascolta non deve avere nessun dubbio che quella cosa sia vera. E se io dico la mia parola che farò una cosa, non c'è bisogno di scomulare l'altissimo dicendo giuro che farò questa cosa. Queste virtù sono molto gradite agli occhi del Signore perché il Signore ama chi è nella verità in tutto e ama la sincerità del cuore ed ama appunto la fedeltà alla parola data. Sarebbe cosa molto pronta se chi ci interpella non si fida di noi ha ragione veduta perché abbiamo mentito qualche volta o perché abbiamo dato prova di non fedeltà alla parola che abbiamo dato. Non è solo un problema di onore è un problema di santità perché il Santo dice la verità sempre non dice non dice sempre tutto per ovvie ragioni ma quello che dice è sempre vero e se dice una cosa la fa ovviamente a meno che non sopravvengano circostanze del tutto straordinarie è assolutamente impossibile eseguire quello che si è promesso come diceva il buon San Francesco la necessità non avvinge però noi dobbiamo avere come considerazione anche da parte degli altri che se io dico una cosa quella cosa la faccio e non c'è nessun bisogno di altro c'è una mia parola per confermare la fiducia in quello che mi comprometto quando siamo nel dolore occorre pregare per un motivo molto semplice perché quando siamo sotto prova abbiamo bisogno di grazia a Dio per non vacillare sotto il peso del dolore perché quando noi siamo nel dolore immancabilmente il nemico della nostra salvezza viene a tentarci e a suppilizzinarci che Dio non esiste che Dio se esiste è cattivo e quindi è uguale da bene servirlo o tutte queste altre sciocchezze di cui lui è ben esperto e che purtroppo nelle situazioni di debolezza umana trovano facile terreno o verticchie quando siamo provati abbiamo bisogno di forza e purtroppo sappiamo dall'esperienza comune che magari quando uno sta nel dolore nella frizione nella goscia tende a sbracarsi un po' rilassarsi un po' non gli va di pregare diciamo al Signore mi aiuterà lo stesso adesso non c'ho voglia di riposare non bisogna mai fare cose di questo genere perché proprio quando siamo provati in un punto in cui abbiamo più bisogno di grazie in un punto in cui maggiormente dobbiamo chiedere al Signore la preghiera non è una cosa che si fa quando mi sento la preghiera è una cosa che io faccio perché so che è indispensabile e nei momenti del dolore e della tribolazione è ancora più indispensabile che negli altri quando siamo da gioia non dobbiamo dimenticare il Signore poterci le circostanze serene della vita come se lui non esistesse ma dobbiamo notare e ringraziare perché lui che in certi momenti ci prova ci dà anche dei tempi lieti di gioia di quieto di pace è sempre la stessa mano e come lo invochiamo ci dà la forza di superare i momenti di prova così lo ringraziamo con lo diamo e i momenti lieti che ci concedono la nostra vita il versetto dove San Giacomo parla del chiamare le sfide di quando si è malati è il fondamento biblico insegnato la chiesa nel concilio di Trento del santo sacramento dell'evoluzione degli inferi qui sinteticissimamente lo San Giacomo spiega gli effetti di questo sacramento la preghiera fatta con fede salverà il malato cioè apporterà la salvezza al malato sicuramente dell'anima e se così Dio ritiene apporte anche del corpo la loro religione il Signore non rialzerà e se ha commesso peccati li saranno perdonati ho avuto ho avuto modo di dire recentemente a un funerale un po' dei rari funerali celebrato una persona che sono riuscito a dargli l'oreo santo che mi hanno chiamato l'importanza straordinaria di questo sacramento su cui specialmente in questo mese occorre riflettere e non fare mai pulire i nostri cani senza il sacramento di emozione che è così importante e ricco di frutti l'anima che sta nella sofferenza con i sogni della morte e non dobbiamo mai essere frenati ecco dalla sciocchissima idea di spaventare il malato perché se vede il prete poi si pensa che sta a morire e se si pensa che sta a morire è bene che si prepari ecco che non arrivi a quel momento sproveduto perché la morte è una realtà non pensarci ad esorcizzarla provare ad esorcizzarla non serve a eliminarla o a vincerela serve semplicemente a farci arrivare ad essai impreparati per il pericolo di perdere la sua pezza dell'anima è una cosa da nulla pregate gli uni per gli altri per essere guariti ecco però qui il signore non parla soltanto della guarigione tra le malattie del corpo che sono le forme di malattie meno grave ma parla delle malattie più profonde delle malattie spirituali delle malattie dell'anima delle malattie psicologiche che dipendono da tante situazioni noi siamo sempre copensi ecco a giudicare a criticare o a non sopportare i difetti degli altri molto bene sarebbe pregarci perché tutti noi abbiamo una montagna di malattie in cui dobbiamo essere guariti che non è questa la sede opportuna insomma per approfondire molto questo tema però le forme di fragilità psichica le perite che si porta dietro le nevrosi le psicosi le reossessive le varanoie le depressioni le inconsistenze psicologiche le fragilità affettive queste sono soltanto alcune i vizi a volte questi brutti stratagemmi lo ampecca cercando una soluzione ai suoi problemi sapendo che se pecca li aggrava i suoi problemi non è che li risolve è molto opportuno pregare per essere venuti nella guarigione ed anche noi io penso che uno dei momenti fondamentali della nostra vita e c'è purtroppo che non lo vive fino a quando non arriva la morte purtroppo è quando ci lasciano completamente denudare dal Signore noi sappiamo che non esiste possibilità di guarire da una malattia questa è l'esperienza delle malattie del corpo se non viene fatta una diagnosi e parla della mia il medico deve sapere se tu hai un tumore dove ce l'hai se tu hai la polmonite o se tu hai la patita virale deve sapere cosa c'hai per poterti guarire tu devi sapere cosa c'hai per essere guarito dal Signore ed è inutile che uno passi davanti alla vita come la stragrandissima maggioranza degli esseri umani a fare finta di niente o a pensare che la colpa sia sempre degli altri non serve così si fa ma si malificano la possibilità di essere guariti da Gesù io dico sempre alle persone che stanno in difficoltà e soffrono per tutte quante sofferenze che se qualcuno ci pensa sono tutte quante figlie semplicemente per la nostra umana volontà solo questo è tutto però io penso sempre se tu avresti fede quanto un caranello di Sena perché lo dico comunque i problemi sarebbero subito tutti risolti potresti dire a questa montagna spostati mettiti davanti avanti lo farebbe purché sei in grado di dare un nome a una montagna come si chiama la montagna che c'hai oppure se non ci avesse la grazia di essere adentrato nella vita della divina volontà non ci sarebbe più nulla ecco che rappresenta un ostacolo in quali campi fuori di questi casi la guarigione diventa molto molto difficile specialmente perché noi continuiamo a non lasciarci come dire illuminate dalla luce che è Gesù Gesù è una mano dedicata non è che ti si batte in faccia le tue cose come un disprezzo o questo come un demonio dicendo di carta che quello che sei non c'è speranza non cambiere mai eccetera eccetera no Gesù lo fa con lucezza con l'amore con le rinvetezze ma anche con molta serietà perché se non si sbloccano le cose molto poco è il bene che facciamo e molto poco valore agli occhi di Dio quindi molto bene pregare gli uni per gli altri perché possiamo essere guariti perché se un poveraccio non è capace di invocare su di sé dalla regione almeno chi vede alcune cose tra chi per lui sperando che la grazia operi e se non gioco ci incoraggia perché la preghiera del giusto fatta con insistenza vale molto è una cosa grossa agli occhi di Dio e fa l'esempio di Elia Elia è un momento dove era bene per gli enti governanti che c'erano in Israele per la sua nuova azione da parte dell'altissimo pregò che questo potesse verificarsi pregò che non piovesse e sulla terra non piove con tre anni esseri poi pregò di nuovo questo si trovava nei libri di Samuele e di pietere credo più di pietere se non piove male e pregò intenzialmente che non piovesse e poi pregò che piovesse e piove e la terra potesse tutto l'ultima esortazione che ci rivolge San Giano è quella del ricondurre un peccatore dalla sua i miei errori come si riconduce un peccatore dalla mia eterna in parte ce l'ha detto già per ricondurre un peccatore sulla lettera è vicino è sottopregare per noi numero uno numero due se uno è capace occorre anche offrire qualcosa fare penitenza per uno offrire sacrifici numero tre occorre amarlo assai quindi fargli percepire tutto l'amore di cui siamo cominci è il numero quattro dentro questo contesto e dopo queste cose se si vedono degli spiragli aperti nel cuore provare con molta delicatezza a farli comprendere non per noi perché possono andare indietro di cui noi dobbiamo fare attenzione perché molte volte la prima cosa che facciamo è andare a aggredire una persona e cercare di convincerla anche in modo grossolano o a volte aggressivo o violento che sta sbagliando ed è vero in teoria c'erano ragione ma fare così non sortirà nessun effetto positivo anzi l'unica cosa che sorrirà è che quella persona se prima sbagliava come dire in maniera inconsapevole adesso lo vado a posto per farlo per dispetto perché è stata riproverata malamente anziché appunto nel modo in cui Gesù ci insegna bene ringraziamo il Signore per tutte le cose che ci ha trasmesso per la sua lettera di questo che ci troviamo a posto ci mettiamo ora in silenzio il suo cospetto ripensando derogando con Gesù chiedendo a Lui con la grazia di poter stare in dolce e profonda intimità con Lui si è ruotato un adorato e ringraziato ogni momento salatissimo e bellissimo sacramento grazie